Musica Un cordiale saluto gentili telespettatori da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi Come sempre ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Toscana Oggi il settimanale delle diocesi toscane che questa settimana apre su un tema legato al territorio ci si domanda quale sarà la Toscana del futuro da questo punto di vista, dal punto di vista proprio del territorio si parla in particolare della legge urbanistica due sono i pilastri di questa proposta di legge da parte della regione che dovrebbe essere approvata prima della fine della legislatura si tratta praticamente di stabilire come saranno recuperate certe aree come si potrà porre fine al degrado e c'è anche un'intervista all'assessore regionale Anna Marzon che si occupa proprio della materia l'obiettivo dice è migliorare la qualità del territorio e andiamo avanti scorrendo le pagine dedicate alla Toscana troviamo due pagine che parlano di temi economici si parla di commercio e turismo per dire che in appena tre mesi quasi mille aziende toscane hanno chiuso dati dunque negativi per questo settore e anche dall'agricoltura le notizie non sono del tutto positive anche se secondo il rapporto IRPET sull'agricoltura in Toscana cresce l'export dei prodotti di qualità in calo però l'occupazione dunque i posti di lavoro sono diminuiti di quasi l'8% e c'è spazio anche per qualche notizia di carattere internazionale in particolare si parla della visita di Obama a Papa Francesco Papa Francesco Obama, due americani a Roma si gioca un po' su questo concetto un po' che ricorda anche il film con Alberto Sordi però il fatto è che effettivamente sono due americani anche se appartengono a due zone diverse dell'America comunque si riferisce di questi 50 minuti di colloquio per un incontro con molte consonanze si dice sui grandi temi Papa Francesco fa molto parlare di sé non solo per il suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti ha fatto scalpore anche il suo gesto quando nella settimana scorsa si è confessato pubblicamente proprio mentre iniziavano le 24 ore per il Signore questa iniziativa che prevedeva l'apertura delle chiese a Roma ma poi anche in altre diocesi, anche in Toscana poi come vedremo Papa Francesco ha aperto questa iniziativa confessando alcuni fedeli ma prima ancora si è voluto confessare lui stesso e così appunto è iniziata questa che lo stesso Papa ha definito una vera e propria festa del perdono la gioia che nasce dal sentirsi perdonati anche il titolo che su Toscana Oggi dedichiamo a questa iniziativa raccontando quello che è successo a Grosseto una delle tante città dove l'iniziativa è stata riproposta tanti fedeli sono arrivati in cattedrale a Grosseto o file davanti al confessionale ma anche in tante altre diocesi e città della Toscana ci sono state chiese aperte giorno e notte a Firenze ad esempio sono state la Badia Fiorentina la Santissima Annunziata e racconta ad esempio Padre Gabriele proprio dalla Santissima Annunziata di Firenze la cosa bella è che sono venute anche persone lontane dalla Chiesa lo ritroviamo questo anche sulle pagine fiorentine di Toscana Oggi la festa del perdono anche i lontani si confessano e appunto la testimonianza del priore della Santissima Annunziata sulle cosiddette confessioni di ritorno di persone appunto che si riavvicinano alla Chiesa tema ripreso come si diceva ovviamente un po' da tutte le nostre edizioni tra le tante diamo un'occhiata alla parola di Fiesole 24 ore per il Signore quando la Chiesa tende le braccia a tutti qui si parla della veglia che si è svolta a Figlina una veglia di preghiera e confessione le parrocchie figlinesi si sono di fatto incontrate nella Chiesa di San Francesco il 28 marzo scorso unendosi all'iniziativa appunto come si diceva in precedenza del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione per valorizzare l'insostituibile sacramento che è appunto quello della riconciliazione o della confessione e a proposito di riconciliazione ritroviamo l'argomento anche sulla nostra dubrica risponde il teologo quella che vede alternarsi ogni settimana i docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale nel rispondere alle domande dei nostri lettori la domanda di questa settimana affronta proprio il tema della confessione da un punto di vista un po' curioso chiedono a nostra lettrice perché non dare anche alle donne la possibilità di confessare donne ovviamente con una speciale consacrazione potrebbero secondo lei alternarsi con i sacerdoti nel ricevere le confessioni dei fedeli e risponde in questo caso padre Valiero Mauro che è docente di teologia sacramentaria che spiega che in realtà il ministero della riconciliazione del perdonare i peccati è legato proprio al sacerdozio dunque finché non ci saranno sacerdoti donne cosa come sappiamo che Papa Giovanni Paolo II ha negato in maniera netta sarà impossibile anche avere donne in confessionale si parla invece di scuola sulle pagine di Luc 7 l'inserto diocesano appunto della diocesi lucchese se ne parla in prospettiva soprattutto del prossimo 10 maggio quando è fissato l'importante appuntamento dell'incontro con il Papa in piazza San Pietro la scuola incontra Papa Francesco 25 pullman dalla diocesi di Lucca quindi sono veramente tante le persone che partiranno dalla diocesi di Lucca ma non è ovviamente la sola le partenze sono previste da tutta Italia e a questo proposito si parla di una parola chiave che è quella dell'educazione ovviamente parlando di scuola non si può non parlare di educazione e poi ci si domanda come curare la formazione e l'educazione delle nuove generazioni quale attenzione dedicare come parrocchia al tema educativo ad esempio si pone questo problema alle parrocchie in che modo singole associazioni, parrocchie e istituzioni possono prendersi cura della scuola questa riflessione è una pagina intera appunto sulla edizione di Lucca 7 Ancora dalle pagine di informazione religiosa troviamo il cammino della Chiesa italiana verso Firenze 2015 verso il grande convegno ecclesiale nazionale che si svolgerà proprio nel capoluogo toscano e poi invece Montepulciano che si prepara ad accogliere il nuovo vescovo Monsignor Stefano Manetti che il 25 marzo ha ricevuto l'ordinazione episcopale nel Duomo di Firenze invece domenica 13 aprile farà il suo ingresso una curiosità ad accoglierlo al suo arrivo nel territorio diocesano sarà il gruppo dei motociclisti diocesani Possiamo anche aggiungere che l'ingresso di Monsignor Stefano Manetti a Montepulciano sarà trasmesso in diretta grazie ad una delle nostre emittenti TSD e sarà anche poi in diretta streaming ovviamente fra l'altro sarà visibile quindi questa diretta anche a Firenze dove ovviamente Don Stefano ha ancora molti amici quindi sarà senz'altro seguita sarà sul canale 85 di TSD Andiamo a Pisa sulle pagine di Vita Nova l'edizione pisana di Toscana oggi troviamo la missione Giovani per i giovani questo è il titolo di apertura si parla appunto di questa speciale missione giovani che ha raggiunto anche i luoghi della movida cosiddetta dunque una presenza appunto dei giovani della diocesi nei luoghi di ritrovo nei luoghi dove i ragazzi si ritrovano la sera Esci fuori è lo slogan che è stato dato a questa missione che i ragazzi appunto portano in giro tra i loro coetanei Si parla sulle pagine di Grosseto di rinnovamento di una iniziativa che riguarda le donne maltrattate un'oasi per donne maltrattate bambini e persone in difficoltà è la Casa per Crescere che dall'ottobre 2009 ha ospitato 60 persone e attualmente ne ha in carico 23 ma c'è anche una curiosità su questa stessa pagina e c'è una lettera che è stata inviata al sindaco di Grosseto a nome del Papa il Papa ha infatti ringraziato la città per il cosiddetto codice rosa cioè praticamente proprio per quello che la città sta facendo a favore delle donne quindi è curioso questo fatto è stata accolta con molto piacere questa lettera la comunicazione da parte del sindaco era arrivata al Papa tramite il vescovo di Grosseto Rodolfo Cetoloni che aveva fatto appunto da tramite poi questa risposta questo ringraziamento alla città sulla voce l'edizione della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro si parla di sport ma da un'ottica un po' particolare lo sport che vince educando lo sport dunque degli oratori dei campetti vicini alla parrocchia perché lo sport appunto può essere anche un prezioso strumento educativo lo spiega Paolo Casalini del CSI il centro sportivo italiano che annuncia anche un incontro con Don Alessio Albertini che è l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI che sarà proprio ad Arezzo per parlare appunto di sport e di come anche le parrocchie possono utilizzare lo sport come strumento di educazione Torniamo sulle pagine di Fiesole della parola per un elogio della fedeltà è una meditazione quaresimale quella che viene proposta una meditazione del Vescovo Mario Meini ed è interessante perché in fondo si parla tanto di infedeltà in questo momento ma invece esiste anche la fedeltà e dice Mons. Meini le persone fedeli sono tante e poi fedeltà a chi sono tanti i motivi per essere fedeli si deve essere fedeli nel matrimonio ma si deve essere fedeli anche a Gesù soprattutto appunto per i cristiani questa fedeltà è indubbiamente fondamentale quindi leggiamo invito alla riflessione del Vescovo Mario in vista della settimana santa la fedeltà un inno di lodo e di ringraziamento al Signore che ci fa capaci di essere veramente noi stessi e di assolvere degnamente la responsabilità a chi la vita ci ha posto dinanzi Siena invece si prepara un altro appuntamento l'anno eucaristico un anno che celebra il centenario della ricognizione delle sacre particole la ricognizione avvenuta nel 1914 dunque un secolo fa si tratta delle 223 ostie che si conservano incorrotte dal 1730 quando furono trafugate nella chiesa di San Francesco e poi ritrovate dunque un miracolo eucaristico a cui la città è molto affezionata e che per un anno terrà impegnata la diocesi anche con il pellegrinaggio delle sacre particole in alcune chiese della diocesi un tema particolare invece troviamo sulla prima pagina della settimana edizione livornese di Toscana oggi un'iniziativa che riguarda il consiglio pastorale diocesano ma che guarda alle prossime elezioni amministrative che saranno tra le altre appunto anche a Livorno buoni cristiani e onesti cittadini una sorta di vademecum ma particolare si parla delle beatitudini del cittadino elettore quindi questo documento preparato dal consiglio pastorale diocesano sarà inviato alle parrocchie per far riflettere e rendere i fedeli consapevoli protagonisti delle prossime elezioni amministrative come dicevo in queste beatitudini ne leggiamo alcune beato chi si impegna nel sociale e nel politico tutto l'anno e si informa ogni giorno sull'amministrazione e il suo comune quindi si chiede di essere interessati alla cosa pubblica beato chi esercita il diritto di voto come il dovere del voto in coscienza e nella responsabilità vediamo l'ultima beatitudine beato chi vive amministra a contatto con la sua gente è lo stesso il giorno dopo la vittoria o la sconfitta è trasparente nella vita privata e nella pubblica andiamo su inventario la parte culturale del nostro settimana troviamo un libro un libro molto curioso interessante sulla storia di Firenze vista però in punto un po' particolare del suo svolgimento siamo abituati a conoscere la Firenze del Rinascimento del Quattrocento del Cinquecento qui invece si parla della Firenze del Mille una Firenze decisamente meno conosciuta infatti il titolo è proprio Architettura e Segreti della Firenze del Mille è un libro di Renato Stopani che ricostruisce appunto lo sviluppo della città dall'undicesimo secolo alla metà del Duecento e c'è un fenomeno in questi giorni in queste settimane che ha coinvolto tantissime persone sia in televisione ma soprattutto sulla rete sul web il fenomeno è quello di Suor Cristina questa giovane suora che si è presentata alla trasmissione The Voice ed ha così come dire spopolato ma non solo in televisione dicevo ma proprio sulla rete ormai i contatti sono vicini ai 40 milioni pensate quindi un qualcosa di eccezionale sotto quel velo si dice in questa recensione di Mauro Banchini una ragazza rock però si riflette anche su un aspetto particolare in quanto Suor Cristina non era la prima volta che si presentava in televisione in realtà aveva partecipato già ad una trasmissione di TV 2000 anche quella una sorta di concorso canoro però diciamo la differenza qual'era? Che lì che si era presentata di fatto con un canto religioso e quindi è apparsa un po' come una suora che canta una canzone religiosa in The Voice invece come l'aspetto è stato completamente diverso è sembrata una ragazza giovane che balla e canta musica rock vestita da suora in realtà è suora realmente ecco però per far capire i fenomeni come sono così diversi tra loro fatto sta che in questa sua seconda apparizione effettivamente è scattato qualcosa una molla e per cui è venuto fuori questo fenomeno anche se poi dobbiamo sempre dubitare quanto i giudici di questa trasmissione il cui meccanismo a un certo punto si devono girare senza sapere chi sta accantando e scoprire in quel momento chi c'è dietro di loro non si sa se poi sapevano o non sapevano che dietro di loro sarebbe stata una suora ma questa ovviamente è la televisione diciamo è la realtà è la finzione della televisione che si sovrappongono si parla in televisione questa settimana anche nelle lettere perché un lettore ci chiede a chi rivolgersi quando c'è da contestare la cattiva tv e andiamo soprattutto qui l'indicazione dell'IART l'associazione dei telespettatori che a questo proposito segue con molta attenzione quello che avviene in televisione e propone anche proprio dei moduli per la protesta in questa risposta però si dice che esiste anche della buona televisione che è quella che spesso fanno le nostre emittenti cattoliche che sono piccole emittenti ma come ha detto il Papa di recente nell'incontro proprio con le tv e le radio cattoliche non esiste piccolo e grande in questo settore ma tutto è determinato appunto dalla qualità e dal servizio che facciamo parliamo di poesia ancora nelle pagine di inventario in particolare di ermetismo perché sono partiti gli eventi per il centenario della nascita proprio di tre grandi poeti della stagione ermetica si tratta di Mario Luzzi di Alessandro Parronchi e Piero Bigongiari e ce ne parla su Toscana Oggi Giorgio Tabanelli che è un regista un docente di regia il titolo un po' provocatorio celebrare l'ermetismo al tempo della spending review in questa intervista infatti pone un po' il rischio il pericolo che proprio per motivi di mancanza di risorse e di poca voglia di fare investimenti sulla cultura questi centenari questi anniversari finiscano per restare nascosti invece per fortuna ci sono tante iniziative in programma e c'è la possibilità di ricordare questi tre grandi poeti nel modo più dignitoso rimaniamo in ambito letterario per segnalare una se vogliamo anche una curiosità parliamo innanzitutto di Cursio Malaparte grandissimo scrittore pratese autore la sua opera più nota sono i maledetti toscani ebbene questo libro probabilmente è introvabile è fuori catalogo però risulta che ci siano molte richieste da parte dei lettori che continuano ad andare nelle librerie soprattutto a Prato se appunto si legge di questo sulla voce di Prato a chiedere questo libro di Malaparte e allora si è pensato a questo punto di ristamparlo la Delphi che è la casa editrice appunto che ha pubblicato questo libro ha in programma di ristamparlo però c'è anche un'intervista sulle pagine appunto la voce di Prato un'intervista al pronipote di Cursio Malaparte Rositani il quale un po' si lamenta perché dice la memoria di mio zio a Prato non interessa questo è un male indubbiamente che non interessi perché indubbiamente la figura di Cursio Malaparte nella storia della letteratura è una figura indubbiamente importante chiudiamo tornando a Firenze per segnalare la ripresa e il ritorno per la rassegna Oflos Colende la rassegna di concerti di grandi appuntamenti musicali sotto la cupola del Brunelleschi il Duomo infatti ospita questi appuntamenti organizzati dall'opera di Santa Maria del Fiore si partirà con le sette ultime parole di Cristo sulla croce di Aydin per arrivare fino alla natività di Bartolucci dunque un omaggio al grande compositore musicista fiorentino anzi del Mugello poi divenuto cardinale e con questo è davvero tutto vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e appuntamento alla prossima settimana musica 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 Grazie a tutti.